cari amiche e cari amici bentornati in questo video vedremo come è nata la fisica atomica ma non ci limiteremo a elencare le cose che conosciamo ma ci soffermeremo proprio sui ragionamenti che hanno fatto i fisici partendo da semplici osservazioni sperimentali per capire tutto ciò che oggi conosciamo cioè che gli atomi hanno un nucleo hanno degli elettroni intorno ma anche informazioni molto più dettagliate ad esempio quanto è grande un atomo qual è il suo diametro oppure qual è la velocità di un elettrone attorno al proprio nucleo arrivando quindi alla formulazione del modello semiclassico di atomo che poi successivamente sarà ancora sviluppato perché poi partendo dal principio di indeterminazione di heisenberg si passerà dal concetto di orbita a quello di orbitale su questo argomento ci sono tantissime cose da dire quindi non verrà un video brevissimo io però cercherò di essere il più asciutto il più sintetico possibile però senza saltare nessun passaggio fondamentale e soprattutto concentrandoci sui ragionamenti che sono stati fatti poi solo nell'ultima parte del video invece vedremo proprio i calcoli nello specifico che sono stati fatti per ottenere i risultati quantitativi può sembrare strano ma per comprendere la materia si è partiti dall'osservazione della luce cioè della radiazione elettromagnetica che paradossalmente non ha massa quindi non è fatta di materia e penso che tutti voi conosciate il celebre esperimento di newton nel quale separa la luce bianca nei vari colori quindi capisce che la luce bianca è la sovrapposizione di più colori ecco da questo esperimento oltre un secolo dopo nasce la moderna spettroscopia cioè quella scienza che si occupa non solo di separare la luce nei vari colori ma di misurare l'intensità delle varie lunghezze d'onda che vengono prodotte in questo modo se osserviamo lo spettro di un liquido di un solido noteremo che l'emissione luminosa avviene a tutte le lunghezze d'onda senza saltarne si parla quindi di spettro continuo qualcuno dirà ma liquide solide non emettono luce propria a meno che non siano incandescenti in realtà tutte le temperature emettono radiazione infrarossa che non è visibile a occhio umano però se si aumenta la temperatura emettono anche nel visibile molto diversi invece sono gli spettri dei gas rarefatti i quali sono spettri a righe cioè come potete osservare da queste immagini c'è luce a una certa frequenza o una certa lunghezza d'onda e però non c'è nessuna emissione luminosa ad altre lunghezze d'onda ho riportato due esempi lo spettro dell'idrogeno atomico e lo spettro del ferro atomico ferro quindi allo stato gassoso e notate che quello dell'idrogeno è molto più semplice oggi sappiamo il motivo perché l'idrogeno ha un solo elettrone però quando sono state fatte queste misure nel 19 secolo era un enigma e non si sapeva perché gli spettri erano fatti in questo modo altra cosa interessante se si fa passare della luce bianca cioè uno spettro continuo attraverso un gas freddo cioè un gas che non emette luce visibile perché una temperatura troppo bassa e poi si separa la luce nelle varie lunghezze d'onda e si vede che c'è uno spettro continuo ma con delle linee nere si chiama spettro di assorbimento cioè il gas freddo ha assorbito proprio le stesse identiche lunghezze d'onda che avrebbe emesso se fosse stato surriscaldato quindi questo è sempre idrogeno quello sopra è lo spettro di emissione dell'idrogeno e quello sotto è lo spettro di assorbimento dell'idrogeno siamo intorno al 1880 quando queste tecniche spettrometriche sono abbastanza avanzate ma nessuno ha idea del perché la natura si comporta in questo modo i fisici allora si sono concentrati sullo spettro dell'idrogeno semplicemente perché era il più semplice di tutti presentava solo quattro linee nel visibile e questa è una tecnica utilizzata molto spesso in fisica quando si deve studiare un fenomeno nuovo lo si studia nelle configurazioni più semplici possibili e una volta capito in quella configurazione si cerca poi di capire anche le situazioni più complesse questi quattro numeri che vedete sono le lunghezze d'onda corrispondenti a quelle quattro linee luminose l'unità di misura il nanometro che sono miliardesimi di metro abbiamo quindi una linea viola 410 nanometri una viola un po più chiara 434 un'altra 486 e una linea rossa a 656 perché proprio questi valori e non altri c'è una formula che in qualche modo possa prevedere questi numeri una prima risposta la fornita balmer nel 1885 egli era un professore di matematica era anche appassionato di architettura e di interpretazione numerica delle simmetrie presenti nelle opere architettoniche e ha notato che 1 fratto 410 che è il primo numero presente nello spettro dell'idrogeno è uguale a 0,0109737 per un quarto meno un trentaseiesimo fin qua niente di interessante sono numeri scelti ad hoc per far venire 1 fratto 410 però anche 1 fratto 434 che è il secondo numero dello spettro dell'idrogeno è uguale sempre a 0,010 eccetera per un quarto come prima meno un venticinquesimo mentre prima era meno un trentaseiesimo cioè 1 fratto 6 alla seconda adesso 1 fratto 5 alla seconda e la stessa sequenza vale anche per gli altri numeri 1 fratto 486 è uguale sempre a questo numero per un quarto meno un sedicesimo e così per 1 fratto 656 un quarto meno un nono le quattro formule precedenti possono essere scritte in generale in questo modo 1 su lambda è uguale a rh per 1 fratto 2 alla seconda cioè 4 meno 1 fratto n alla seconda dove lambda è la lunghezza d'onda di una certa riga dell'idrogeno rh è detta costante di Rydberg in onore di uno dei padri della moderna spettroscopia e n è un numero naturale maggiore di due i numeri generati da questa formula sono detti serie di balmer anche se sarebbe più corretto dire successione di balmer perché in matematica per serie si intende una somma di termini ma questo diciamo il nome storico che poi è rimasto ora se io dovessi immedesimarmi con un contemporaneo di balmer non troverei forse questa formula così interessante perché sembra proprio che si tratti di una semplice curiosità matematica in fondo abbiamo solo quattro numeri non sono tanti quattro numeri e non è così improbabile trovare una formula che per puro caso ci azzecchi e dia proprio quei quattro valori comunque il dubbio poteva sempre esserci si tratta di una casualità o questa formula nasconde un legame profondo con la struttura della materia beh io credo che pochi scommettessero sulle importanza di questa formula e credo che sia preso un colpo agli spettroscopisti quando nel 1906 hanno scoperto una cosa incredibile infatti il fisico americano le man perfezionò le tecniche di spettroscopia e riuscì a misurare le lunghezze d'onda anche alla luce sviluppata dall'idrogeno nell'ultravioletto che un tipo di luce che non è visibile a occhio umano ma con opportuni strumenti può essere rivelata e può essere misurata la lunghezza d'onda e questi sono sono le quattro righe nell'ultravioletto e questi qua sono i quattro valori delle lunghezze d'onda sempre espresse in nanometri e se andiamo a prendere la formula di balmer ma al posto di due alla seconda mettiamo uno alla seconda ecco che vengono questi quattro valori n però questa volta non è un numero da tre in su ma è un numero naturale da due in su cioè si passa si parte sempre dal successivo del numero a denominatore nella prima frazione capite la differenza rispetto a prima prima si era costruita una formula per soddisfare certi numeri adesso la formula già ce l'avevamo certo leggermente modificata ma questa formula ha predetto delle misure che non erano ancora state fatte e qui a questo punto ci si è resi conto che si aveva tra le mani qualcosa di grosso poi gli studi sono proseguiti e si è iniziato anche a misurare la luce nell'infrarosso ottenendo queste nuove lunghezze d'onda ma tutte queste lunghezze d'onda saltano fuori dalla formula precedente mettendo tre alla seconda a denominatore abbiamo la cosiddetta serie di passion e poi ancora 14 anni dopo si sono misurate altre righe sempre nell'infrarosso ma con lunghezze d'onda maggiori e i valori sono stati trovati sempre utilizzando la stessa formula questa volta con quattro alla seconda noterete che dal 1908 al 1922 sono passati diversi anni ma il motivo è che all'aumentare del numero a denominatore queste righe erano sempre più deboli e meno visibili quindi servivano tecniche sempre più raffinate per poterle individuare poi ancora nel 1924 altre lunghezze d'onda sempre individuate dalla formula col 5 denominatore e nel 53 l'ultima serie con 6 a denominatore in pratica abbiamo un'unica formula che può essere scritta come 1 fratto lambda uguale rh per 1 fratto n primo alla seconda meno 1 fratto n alla seconda dove n primo è un numero che va da 1 a 6 e da il nome alla serie mentre n è un numero che va da n primo più 1 a infinito perché poi c'erano tante altre linee però sempre più vicine tra loro e sempre più deboli però la fisica non si basa semplicemente su formule che prevedono i fatti sperimentali perché ciò che interessa è la comprensione del fenomeno fisico che sta alla base di quella formula perché perché questa legge fa prevedere le linee spettrali che poi vengono misurate che cosa c'è sotto ecco la comprensione del fenomeno alla base di questa formula che poteva prevedere le righe è stata data nel 1913 dal fisico danese Niels Bohr Bohr ha avuto un'intuizione geniale che però non era basata sul nulla ma era basata su tutte le acquisizioni scientifiche che erano state fatte dal 1885 quando Balmer ha trovato la prima formula fino a quel giorno ed è proprio ciò che vedremo insieme in questo video un primo passo è stato fatto da Faraday con i suoi esperimenti sull'elettrolisi il quale intuì che dentro la materia dovevano esserci delle quantità discrete di carica elettrica e in seguito studi sempre più raffinati sull'elettrolisi hanno permesso di confermare la presenza di queste cariche alle quali George Stoney ha dato il nome di elettroni però ancora non si riusciva a trovare delle misure attendibili delle proprietà fisiche di queste nuove particelle intanto però il tedesco Itorff nel 1869 scoprì che se si prende un tubo con dentro del gas a bassissima pressione siamo intorno a 10 alla meno 5 atmosfere quindi un centomillesimo della pressione atmosferica e se sottoponiamo questo gas a forti differenze di potenziale mettendo degli elettrodi ecco in questo gas si sviluppano delle scariche che prendono il nome di raggi catodici catodici perché queste scariche escono dal catodo cioè dal polo negativo e vanno a colpire l'anodo in questa immagine vedete l'esperimento riprodotto in un moderno laboratorio di fisica e questi raggi catodici colpiscono questo foglio di materiale fluorescente e lo illuminano perché appunto nelle vecchie televisioni quelle spesse per intenderci all'interno c'era un tubo catodico che sparava questi raggi catodici verso lo schermo e col pendolo formava le immagini e quasi 30 anni dopo la scoperta dei raggi catodici in particolare nel 1897 il fisico inglese jj thompson tramite un celebre esperimento riuscì a misurare il rapporto tra la carica e la massa delle particelle che costituivano questi raggi e sempre thompson capì che erano le stesse particelle che erano presenti nell'elettrolisi e quindi se queste particelle sono sia nei gas rarefatti ma anche nell'elettrolisi diventava abbastanza evidente che erano un po dappertutto cioè che erano un costituente della materia in cosa consiste l'esperimento di thompson lo descrivo in modo molto qualitativo manda questi raggi catodici tra le armature di un condensatore cioè una piastra carica negativamente una carica positivamente e queste particelle essendo cariche sono attirate dalla piastra negativa perché quindi ha dimostrato che i raggi catodici erano carichi negativamente e facevano un certo raggio di curvatura allora maggiore è la carica maggiore sarà la curvatura della particella perché è maggiore la forza di attrazione però maggiore la massa più la particella tende andare dritta perché a parità di velocità se ha una grande massa ha anche una grande quantità di moto e quindi diventa difficile deviare la particella in sostanza misurando il raggio di curvature conoscendo la velocità delle particelle che adesso non entro nei dettagli però è riuscito a calcolarla è riuscito a calcolare il rapporto carica dell'elettrone fratto massa dell'elettrone ottenendo circa 1,76 per 10 alla 11 coulomb su chilogrammo quindi vedete un risultato quantitativo molto importante quindi sebbene l'elettrone fosse già stato intuito in precedenza però thompson è andato ufficialmente il merito della scoperta dell'elettrone per questo ha preso il premio nobel per la fisica nel 1906 notare però che thompson ha trovato il rapporto e su m ma non si sapeva quanto valevano la carica e la massa dell'elettrone separatamente ma il problema è stato risolto 12 anni dopo quando nel 1909 l'americano robert millican ha compiuto un celebre esperimento tramite il quale ha misurato la carica dell'elettrone ottenendo 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb e se ci pensiamo un attimo al di là del valore trovato millican ha dimostrato che la carica elettrica è quantizzata perché gli elettroni sono i portatori di carica e quindi la carica elettrica deve essere multipla di una unità fondamentale che è proprio 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb quindi è una prima quantizzazione della della natura inoltre nota la carica e dell'elettrone era anche immediato trovare la massa m dell'elettrone perché thompson ha trovato il rapporto e su m quindi se conosciamo e basta fare la formula inversa e si trova m cioè il valore assoluto della carica dell'elettrone fratto il valore del rapporto ottenendo così 9,11 per 10 alla meno 31 chilogrammi vi faccio una breve sintesi dell'esperimento di millican praticamente millican ha sparato delle piccolissime gocce d'olio con uno spruzzatore dentro un contenitore e per attrito con l'ugello dello spruzzatore queste gocce d'olio si sono caricate elettricamente poi alcune di queste gocce sono passate attraverso una fenditura e poste tra le piastre di un condensatore sono state immobilizzate cioè è stata annullata la loro caduta creando un campo elettrico che si opponesse alla forza di gravità e conoscendo il valore del campo ha potuto misurare la carica elettrica e ha visto che tutte queste goccioline d'acqua presentavano delle cariche che erano sempre multiple intere di 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb cioè si aveva 1,6 3,2 4,8 e mai numeri intermedi e quindi ci doveva essere una quantità fondamentale che era ripetuta un certo numero di volte altri studi che poi sono stati fondamentali per la comprensione degli atomi sono gli studi di avogadro che ha permesso di determinare il cosiddetto numero di avogadro che non è altro che il numero di atomi o di molecole presenti in una certa quantità di materia più precisamente in una mole di una certa sostanza facendo l'esempio dell'idrogeno una mole di idrogeno ha una massa di un grammo quindi dividendo un grammo per il numero di avogadro si ottiene la massa di un atomo di idrogeno e la cosa interessante è stata che la massa degli elettroni calcolati da Millikan è 1800 volte più piccola della massa dell'idrogeno che è l'atomo più leggero che ci sia cioè si è capito che questi elettroni che sono un costituente della materia sono però molto più piccoli degli atomi che costituiscono la materia stessa inoltre dato che la materia si presenta neutra mentre gli elettroni sono negativi allora gli atomi dovevano contenere anche una parte positiva che andasse ad annullare la parte negativa allora mettendo insieme queste cose Thomson cioè lo stesso che aveva calcolato il rapporto e su m ha proposto il primo modello atomico cioè ha pensato agli atomi come delle palle di carica positiva all'interno della quale c'erano gli elettroni questo è anche detto informalmente modello panettone perché si pensavano gli atomi come dei panettoni e gli elettroni erano l'uvetta o i canditi all'interno di questi panettoni notate che l'atomo di Thomson precede di sette anni l'esperimento di Millikan perché già aveva intuito che dovevano avere una massa minore poi Millikan ha confermato questo fatto gli esperimenti che hanno portato alla crisi dell'atomo di Thomson sono stati realizzati grazie alla radioattività che era stata scoperta qualche anno prima nel 1896 da Becquerel il quale casualmente ha notato che dei sali di uranio che erano posti vicino a delle lastre fotografiche erano in grado di impressionare queste lastre che cosa vuol dire? Vuol dire che dei sali di uranio dovevano partire delle particelle o una radiazione o qualcosa che andavano a colpire la lastra fotografica e la impressionavano, cioè lasciavano delle tracce dopo queste osservazioni due anni dopo una celebre coppia di chimici e fisici i coniugi Chiuri, più precisamente Pierre Chiuri e la polacca Maris Lodowowska trovarono che anche altri elementi manifestavano questa proprietà in particolare il torio e poi altri due elementi che sono stati scoperti proprio da loro dai loro studi sulla radioattività, cioè il radio elemento dal quale poi è preso successivamente il nome e il termine radioattività e poi il polonio in onore di Marie e della sua patria ora, mentre i coniugi Chiuri si concentrarono soprattutto sullo studio e sull'individuazione di nuovi elementi radioattivi fu il fisico neozelandese Rutherford che si concentrò sullo studio di queste particelle emesse dalle sostanze radioattive egli mise dei campioni radioattivi in una scatola di piombo forata dal foro uscivano delle particelle e facendo passare queste particelle in un campo magnetico osservò che alcune andavano dritte come se il campo non ci fosse alcune venivano deviate da una parte e alcune venivano deviate dall'altra quindi capì che c'erano tre tipi di particelle alle quali diede il nome di particelle alfa, beta e gamma che sono le prime tre lettere dall'alfabeto greco in particolare chiamò alfa le particelle cariche positivamente che poi si capì che non erano altro che nuclei di elio quindi due protoni e due neutroni anche se all'epoca di Rutherford il neutrone non era ancora stato scoperto le particelle beta non erano altro che elettroni e le particelle gamma era radiazione elettromagnetica ad alta energia altri studi per indagare sulla natura di queste particelle fu farle impattare contro delle superfici le particelle alfa potevano essere fermate da un semplice foglio di carta le beta attraversavano la carta ma potevano essere fermate da un foglio di alluminio invece le particelle gamma sono molto più penetranti superavano la carta dall'alluminio ma venivano poi fermate da una parete di piombo ora cosa c'entra tutto ciò con l'atomo di Thomson? c'entra perché capite le caratteristiche di queste particelle Rutherford assieme ai suoi collaboratori fece degli esperimenti nel quale sparò delle particelle alfa contro una lamina d'oro una lamina estremamente sottile l'oro può essere fatto in strati così sottili che ci sono solo poche file di atomi e quindi si può osservare bene l'interazione tra queste particelle alfa e gli atomi allora che cosa notò Rutherford? notò che alcune particelle passavano l'oro e proseguivano in linea retta come se la lamina non ci fosse alcune venivano leggermente deviate mentre altre subivano una deviazione molto più grande addirittura potevano tornare indietro allora se gli atomi fossero stati fatti come descritti da Thomson va bene ammettere che le particelle alfa possono andare dritte va bene ammettere che possono essere leggermente deviate dagli elettroni presenti nell'atomo ma risultava molto strano che tornassero indietro come se colpissero qualcosa di solido e compatto allora che cosa capì Rutherford? dunque l'oro ha 79 elettroni e dato che alcune particelle tornavano indietro e non dobbiamo pensare come urto dovuto alla massa ma l'urto era proprio dovuto alla carica elettrica allora doveva esserci una grossa carica elettrica positiva al centro infatti oggi sappiamo che l'oro ha 79 elettroni quindi 79 protoni e questi qua sono tutti raccolti al centro dove c'è quindi una grande carica e anche la maggior parte della massa perché sappiamo che gli elettroni sono molto leggeri quindi un nucleo centrale grande e compatto e poi gli elettroni molto più distanti e la maggior parte dello spazio era di vuoto perché la maggior parte delle particelle alfa riuscivano ad attraversare la lamina d'oro senza essere fortemente deviate abbiamo quindi un modello planetario di atomo cioè come nel sistema solare c'è una grande massa al centro che è il sole e piccoli tra virgolette pianeti che orbitano intorno allo stesso modo l'atomo ha un grande nucleo positivo al centro e gli elettroni piccolini che orbitano intorno sembrava proprio che l'atomo di Rutherford riuscisse a mettere insieme tutte le cose ma aveva un grande difetto cioè non rispettava le equazioni di Maxwell le equazioni di Maxwell infatti che sono state formulate nella seconda metà del 1800 e descrivono il comportamento dell'elettromagnetismo classico stabilivano che una particella carica che si muove di moto circolare che quindi è un moto accelerato perché c'è un'accelerazione centripeta dentro un campo elettrico generato da un'altra carica cioè dal nucleo allora questo moto accelerato di una carica elettrica in un campo elettrico fa sì che vengano emesse delle onde elettromagnetiche queste qua rappresentate che erano onde costituite da campi elettrici e campi magnetici quindi questa emissione determinava una perdita di energia dell'elettrone perché l'energia non si può né creare né distruggere quindi se un elettrone emette un'onda elettromagnetica che contiene energia allora l'elettrone perde energia ma perdere energia vuol dire perdere velocità e se perde velocità che cosa fa? precipita nel nucleo perché cariche opposte si attraggono ed è la velocità che impedisce all'elettrone di cadere nel nucleo così come è la velocità della luna che impedisce alla luna di cadere sulla terra e la stessa cosa vale per gli atomi ma secondo il modello di Rutherford qualunque atomo dopo una piccolissima frazione di secondo doveva autodistruggersi perché l'elettrone doveva cadere nel centro o più che distruggersi diciamo perdere gli elettroni nello spazio circostante andare tutto nel nucleo e quindi questo atomo non poteva funzionare allora queste erano le cose che si sapevano sugli atomi prima di Borra però dovete tenere duro perché bisogna anche vedere che cosa si era capito sulla radiazione elettromagnetica infatti all'inizio del 1900 sono stati fatti tre celebri esperimenti che hanno permesso di capire che le onde elettromagnetiche erano quantizzate altra cosa non prevista dall'equazione di Maxwell in particolare parliamo dello spettro del corpo nero osservazioni di Planck del 1900 che hanno permesso di attribuirgli il premio Nobel 18 anni dopo lo studio dell'effetto fotoelettrico da parte di Albert Einstein nel 1905 stesso anno di pubblicazione della relatività ristretta il quale ha vinto il Nobel nel 1921 curiosamente Einstein non ha vinto il Nobel per la relatività che è la sua teoria più importante ma per lo studio dell'effetto fotoelettrico e poi alcuni anni dopo anche diciamo dopo l'atomo di Bohr nel 1922 l'effetto Compton cioè l'osservazione che la conservazione della quantità di moto avviene anche a livello microscopico ma questi esperimenti adesso non li descrivo nei dettagli ma da questi si è potuto capire che la radiazione è quantizzata in pratica che esistono i fotoni e che ogni fotone è un'energia che è direttamente proporzionale alla sua frequenza più precisamente l'energia di un fotone è uguale alla frequenza per una costante detta costante di Planck che vale 6,626 per 10 alla meno 34 Jol per secondi inoltre il fotone è anche una quantità di moto questo già lo si sapeva dall'elettromagnetismo classico che le onde elettromagnetiche esercitano una pressione che è uguale all'energia fratto la velocità della luce ora dato che l'energia è uguale ad h per f per quanto detto prima e la velocità di un'onda è uguale alla lunghezza d'onda per la frequenza semplificando la frequenza allora si ottiene che la quantità di moto è uguale ad h fratto la lunghezza d'onda ma comunque cosa fondamentale è che energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche è quantizzata cioè non può variare con continuità ma assume solo specifici valori discreti ora finalmente possiamo tirare le file di tutto quello che si era capito che riassumo velocemente abbiamo una formula che permette di determinare le righe spettrali ma non sappiamo da dove salta fuori abbiamo capito che le onde elettromagnetiche sono quantizzate ma questa quantizzazione non è presente solo nelle onde elettromagnetiche anche la carica elettrica è quantizzata e in un certo modo anche la presenza di queste particelle fa sì che anche la massa sia quantizzata non era una cosa scontata che la massa non variasse in modo continuo oltretutto adesso non ne parlo però il fatto che esistessero gli atomi era anche stato dimostrato dallo stesso Einstein con lo studio dei moti browniani cioè lo studio del polline su una superficie d'acqua che veniva colpito dalle molecole d'acqua e faceva degli scatti quindi da questi studi si capiva che l'acqua aveva una natura corpuscolare quindi questa quantizzazione è infine il modello atomico di Rutherford che soddisfa un sacco di esperimenti quindi un modello molto soddisfacente ma ha questo piccolo problema che non rispetta l'equazione di Maxwell perché c'è questa emissione di un'onda elettromagnetica che farebbe precipitare l'elettrone nel nucleo però le equazioni di Maxwell che sono splendide a livello macroscopico però avevano mostrato i loro limiti a livello microscopico perché questi fotoni presenti a livello microscopico non avevano nulla a che vedere con le equazioni di Maxwell quindi erano quindi la diciamo l'elettromagnetismo classico non funziona bene su scale microscopiche allora Bohr mette insieme tutte queste cose e propone il suo modello di atomo l'atomo di Bohr che è considerato un atomo semiclassico perché è l'atomo che poi porterà col principio di indeterminazione di Heisenberg e con altri studi di meccanica quantistica da parte di De Bruyne di Rack e molti altri all'atomo quanto meccanico allora l'atomo di Bohr è basato su tre postulati due ve li dico subito che sono più qualitativi il terzo è più tecnico e ve ne parlerò quando faremo i calcoli veri e propri ma adesso non serve allora Bohr praticamente parte dall'atomo di Ratter fora modello planetario apportando però alcune modifiche allora primo postulato dice che un elettrone non può percorrere un'orbita qualunque ma solo alcune orbite specifiche dette orbite stazionarie che sono queste qua tratteggiate quindi un elettrone si può trovare sulla prima orbita stazionaria oppure sulla seconda o sulla terza o sulla quarta ma non si potrà mai trovare a metà tra un'orbita e l'altra uno dice ok ma perché Bohr tira fuori questa cosa proprio perché i suoi postulati permettono di soddisfare tutto ciò che si è osservato sperimentalmente quindi non è pura fantasia ma è proprio la spiegazione di quello che è stato c'è un modello che spiega ciò che è stato osservato il secondo postulato parte dal concetto di energia potenziale infatti quando tra due corpi c'è una forza conservativa un campo conservativo meglio dire allora c'è anche un'energia potenziale e se la forza è attrattiva come avviene tra protone ed elettrone allora più le particelle sono lontane tra loro più l'energia potenziale è grande questo vale anche per la gravità più un oggetto è in alto quindi è lontano dal centro della terra maggiore è la sua energia potenziale gravitazionale allo stesso modo l'energia potenziale è maggiore quando un elettrone si trova in un'orbita più esterna quindi qui in questo disegno è rappresentato lo stesso elettrone che passa da un orbitale a un altro vedete la freccia vuol dire che passa non so se è chiaro il disegno ad esempio immaginiamo che l'elettrone si trovi nel sesto orbitale e che passi nel secondo allora la sua energia potenziale diminuisce in realtà aumenta come valore ma è negativa quindi quando un numero negativo diventa più grande è una diminuzione allora se diminuisce l'energia questa energia che perde deve essere ceduta in qualche modo all'ambiente perché l'energia totale si conserva e come la cede la cede emettendo un'onda elettromagnetica e quest'onda elettromagnetica avrà una certa lunghezza d'onda e la lunghezza d'onda si può calcolare con RH per 1 fratto 2 alla seconda dove 2 è l'orbitale di arrivo meno 1 fratto 6 alla seconda dove 6 è l'orbitale di partenza dopo vedremo tutti i calcoli che dimostrano questa cosa in pratica quando l'elettrone passa dall'orbitale 6 all'orbitale 2 genera un fotone viola che è la prima riga dello spettro dell'idrogeno ecco perché ci sono queste quattro righe perché quando si osserva lo spettro dell'idrogeno che contiene miliardi e miliardi di atomi allora tutti quelli che fanno questo salto generano una riga e le altre righe saranno generate da altri salti ad esempio se l'elettrone passa dal quinto orbitale al secondo si ha la seconda riga violetta se passa dal quarto orbitale al secondo si ha questa riga azzurra e dal terzo orbitale al secondo quella rossa e questa è la serie di Balmer e così via se ad esempio passa dal quarto al primo allora il salto energetico è molto più grande perché la differenza tra il primo e il secondo orbitale in termini energetici come vedremo è grande e quindi se ha un grosso salto allora si ha un fotone ultravioletto che è una grande energia che è calcolato con questo termine della serie di Lehman ultimo esempio se si passa dal sesto al quarto orbitale si avrà una riga infrarossa della serie di Bracket e questo capita ogni volta che un elettrone scende di livello cioè passa a un orbitale più interno in pratica ciò capita quando un gas viene riscaldato quando lo si riscalda gli si fornisce energia quindi gli elettroni salgono di livello e poi tendono a scendere a tornare quindi nelle orbite più interne e a cedere quindi energia sotto forma di radiazione elettromagnetica se invece si fa il contrario cioè se invece si investe di luce di luce bianca un gas che ha gli elettroni nelle orbite basse allora questi assorbono energia però deve essere un'energia specifica che permette una salita di livello e quindi si ha lo spettro di assorbimento che avrà le righe nelle stesse posizioni proprio perché l'energia ceduta è uguale all'energia che viene assorbita per salire su un orbitale più grande e per arrivare alla formula delle varie serie spettrali che calcolo dobbiamo fare dobbiamo calcolare l'energia nell'orbitale più esterno togliere l'energia nell'orbitale più interno questa differenza di energia da l'energia del fotone l'energia del fotone si può calcolare con la formula h per f dove f è la frequenza però la frequenza è uguale alla velocità della luce fratto la lunghezza d'onda quindi vedete che abbiamo creato una formula che lega l'energia con la lunghezza d'onda che poi è presente nella formula delle varie serie e ora se non siete ancora stufi viene la parte quantitativa cioè vi faccio vedere proprio i calcoli che ha fatto Bohr per passare da questa differenza di energie delle varie orbite alla formula che abbiamo già visto diverse volte sulle righe spettrali per fare questi calcoli che sono tutto sommato semplici si parla di semplici passaggi algebrici però dobbiamo ricordare qualche formula della fisica classica che sono formule fondamentali che molto conosciute però le ricordiamo insieme anzitutto la forza di Coulomb che esprime l'intensità della trazione tra due cariche elettriche il modulo della forza è uguale al prodotto delle cariche q1 per q2 fratto 4 pi greco epsilon con 0 dove epsilon con 0 è la costante dielettrica nel vuoto e sempre diviso r alla seconda dove r è la distanza tra le due cariche ora questa forza di Coulomb applicata all'elettrone è diretta verso il nucleo e quindi anche verso il centro della circonferenza e quindi questa è anche una forza centripeta che si calcola come massa per accelerazione centripeta seconda legge di newton e l'accelerazione centripeta è velocità alla seconda fratto r quindi m per via alla seconda fratto r poi c'è la quantità di moto della particella che è uguale a massa per velocità poi abbiamo il momento angolare l che non è altro che la quantità di moto rispetto a una rotazione cioè la tendenza di un corpo a mantenere il moto rotatorio che è uguale alla quantità di moto p per il raggio r di rotazione cioè è uguale a r per m per v poi abbiamo l'energia cinetica della particella k uguale un mezzo mv alla seconda e l'energia potenziale elettrostatica che è data dal prodotto delle cariche quindi q1 per q2 fratto 4pi greco epsilon con 0 r oltre a queste formule dobbiamo ancora aggiungere però la terza ipotesi sull'atomo di Bohr vi ricordate abbiamo detto le prime due la terza è la quantizzazione del momento angolare degli elettroni attorno al nucleo non doveva essere strano per Bohr pensare che anche il momento angolare potesse essere quantizzato in fondo era già stata quantizzata la quantità di moto della radiazione l'energia della radiazione la carica elettrica perché non quantizzare anche il momento angolare e lui ha ipotizzato che il momento angolare l di un elettrone fosse uguale a n dove n è il numero dell'orbitale primo secondo terzo per una costante una costante h tagliato detta costante di Planck ridotta che non è altro che h fratto 2pi greco cioè circa 1,055 per 10 alla meno 34 joule per secondo perché proprio questa quantizzazione perché è quel valore che ci permette di trovare proprio le righe spettrali osservate sperimentalmente ora abbiamo tutti gli elementi per procedere con la nostra dimostrazione quindi avviamoci a quest'ultimo sforzo allora l'energia di un elettrone nel suo orbitale è data dalla somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale cioè per quello che abbiamo visto prima un mezzo mv2 più q1 per q2 fratto 4pi greco epsilon con 0 r ove m è la massa dell'elettrone quindi la chiamo me q1 e q2 sono la carica dell'elettrone e del protone che sta nel nucleo quindi q1 per q2 fa meno e alla seconda perché l'elettrone carica meno e il protone carica più e quindi segno opposto più per meno fa meno quindi meno e alla seconda ora massa e carica dell'elettrone li conosciamo sono stati trovati da Millikan e Thompson ciò che non conosciamo è la velocità v dell'elettrone intorno al nucleo e non conosciamo neanche il raggio r dell'orbita chiaramente per ogni orbita avremmo un certo valore di r e anche un certo valore di v ma vediamo adesso che con le formule che ho illustrato prima possiamo calcolare facilmente sia r sia v allora per quanto abbiamo visto prima la forza di attrazione tra elettrone e protone è sia una forza elettrostatica cioè una forza di Coulomb ma anche una forza centripeta possiamo quindi calcolare la stessa forza con due formule diverse e poi le uguali tra loro quindi la forza centripeta che agisce sull'elettrone massa dell'elettrone per velocità al quadrato fratto r è uguale alla forza di Coulomb cioè carica per carica che fa e alla seconda fratto 4 pi greco e y con 0 r alla seconda qui il segno meno non l'ho messo perché è il modulo della forza e da questa uguaglianza possiamo esplicitare v alla seconda in funzione di r quindi sostituendo questo valore di v alla seconda nella formula dell'energia cinetica che è un v alla seconda in pratica sostituendo la velocità va via e abbiamo solo più il raggio quindi la somma dell'energia cinetica dell'energia potenziale facendo questa somma algebrica si ottiene meno e alla seconda fratto 8 pi greco e y con 0 r quindi per calcolare l'energia dell'elettrone abbiamo questa formula e ci manca il raggio e inoltre conosciamo una relazione che lega la forza centripeta con la forza di Coulomb a questo punto entra in gioco la terza ipotesi di Planck ovvero la quantizzazione del momento angolare quindi il momento angolare che in fisica classica abbiamo visto si calcola massa dell'elettrone per velocità dell'elettrone per raggio ma si calcola anche con la formula n per h tagliato cioè n per h fratto 2 pi greco e quindi possiamo ricavare una formula che esprime la velocità rispetto a tutte costantinote perché n è il numero dell'orbitale h lo conosciamo pi greco lo conosciamo la massa dell'elettrone c'è solo r ma mettendo insieme queste due formule abbiamo due equazioni in due incognite quindi sostituendo la velocità in questa qui in questa velocità che c'è qui sostituendo possiamo avere una formula che ha solo più il raggio come incognita e quindi facendo varie semplificazioni si arriva a calcolare il raggio dell'orbita che è uguale a n alla seconda per h alla seconda fratto epsilon con zero diviso pi greco massa dell'elettrone per carica quindi questa formula ci dà il raggio dell'atomo di idrogeno e tale raggio varia in base al numero di orbita occupato dall'elettrone perché più l'elettrone si trova su un'orbita esterna più il raggio è grande quindi ecco perché nella formula abbiamo n alla seconda e poi tutte costanti note più nello specifico se poniamo n uguale a 1 otteniamo il primo raggio quindi qui nella formula n non c'è più perché 1 è l'elemento neutro e sostituendo i valori delle varie costanti si ottiene 5,29 per 10 alla meno 11 metri questo è il raggio classico dell'idrogeno di un atomo di idrogeno raggio classico perché poi come ho accennato si è capito che in realtà esistono gli orbitali che sono delle nu delle zone dove l'elettrone ha una certa probabilità di trovarsi quindi gli orbitali hanno una certa larghezza diciamo così ma il raggio classico rappresenta il raggio medio e questo quando l'elettrone si trova nello stato fondamentale cioè nella prima orbita se invece si trova nella seconda orbita abbiamo il secondo raggio che è uguale al primo raggio per 2 alla seconda che fa 4 quindi il raggio 2 è 4 volte il raggio 1 il raggio 3 è 9 volte il raggio 1 e così via il raggio 4 è 16 volte il raggio 1 sempre n alla seconda per il primo raggio inoltre ora che sappiamo come calcolare il raggio possiamo tornare indietro e calcolare anche la velocità dell'elettrone infatti avevamo la formula che permetteva di calcolare la velocità rispetto al raggio noto il raggio si sostituisce e per quanto riguarda la velocità 1 cioè nella prima orbita sostituendo si ottiene carica dell'elettrone alla seconda fratto 2 y con 0 h e sostituendo i valori si ottengono circa 2188 km al secondo che non sono altro che la velocità della luce fratto 137 e questo numero 1 fratto 137 è molto importante in fisica perché compare in molte formule e prende il nome di costante di struttura fine indicato con la lettera alfa che non c'entra niente con le particelle alfa in pratica alfa è uguale alla carica dell'elettrone fratto 2 y con 0 h c dove c è la velocità della luce vale 1 fratto 137 in pratica vuol dire che la velocità dell'elettrone è un centotrentasettesimo della velocità della luce la velocità dell'elettrone quando è nel primo orbitale quindi potremo anche calcolare la velocità nel primo orbitale come la velocità della luce c per alfa ma ora torniamo all'energia dell'elettrone per ritrovare la formula delle righe spettrali in realtà per l'energia non ci serve la velocità questa è stata solo una digressione ma ci basta conoscere la formula del raggio dell'elettrone e se inseriamo la formula del raggio nell'orbita n quindi rispetto a prima che c'era r1 adesso qua c'è n alla seconda e la mettiamo nella formula dell'energia che ho chiamato en perché è l'energia nell'orbita n sostituendo e semplificando si ottiene che l'energia è uguale a meno la massa dell'elettrone per la carica dell'elettrone alla quarta fratto 8 y con 0 alla seconda n alla seconda h alla seconda si può ricavare facilmente sostituendo e semplificando quindi alla fine concludiamo facendo la differenza tra l'energia dell'orbitale più esterno meno l'energia dell'orbitale più interno cioè en meno en' e questa differenza di energie deve essere uguale ad hf cioè hc fratto lambda abbiamo le formule delle due energie che abbiamo ricavato prima quindi le sostituiamo notiamo che ci sono gli stessi termini che possiamo raccogliere a fattor comune quindi rimane hc fratto lambda uguale massa dell'elettrone per e alla quarta fratto 8 y con 0 alla seconda h alla seconda per 1 fratto n primo alla seconda meno n alla seconda dove n primo è l'orbitale più interno mentre n è l'orbitale più esterno portiamo quindi hc a secondo membro che va denominatore quindi questo h alla seconda diventa h alla terza c e si ottiene che 1 su lambda è uguale a tutta questa roba qua che sono tutte costanti note e se andiamo a sostituire i valori si ottiene proprio il valore della costante di Rydberg come si può verificare armandosi di buona volontà di Rydberg